Oggi presentiamo dalla Link Motors Pucignano la nostra bellissima Mercedes Classe E. Cruzzcotto radica reale, luci e abitacolo multicolor, comandi al volante, chiusura centralizzata senza chiave, fari direzionali, riconoscimento dei segnali stradali, vetri oscurati, volanti in pelle, interni in pelle, telecamera per parcheggio assistito, schermo multifunzione, interamente digitale, immatricolazione dicembre 2018, euro 6, sensori di parcheggio, cerchi in lega, ecco la nostra Mercedes contattate la Link Motors Pucignano allo 080 81 72 831 Nel momento si tratta di provare runtiereniche allo stradale, chiarità di13 faccia THERE nella!!! seguitaiantly creative nella 一點 Io Fiorta Ready Sad Hund Che aspetti?